Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono i sistemi di due equazioni in due incognite con il metodo di sostituzione. Come ci dice il metodo, dobbiamo andare a sostituire un'incognita. Tra queste due equazioni scelgo la prima e in particolar modo scelgo l'incognita y perché è coefficiente numerico 1. E quindi per un discorso di astuzia scelgo questa perché così so che i calcoli sono più semplici. Dobbiamo andare a portare tutto quello che non è y al secondo membro, ovvero la y l'ho ricopiata, il 6x portato al secondo membro diventa meno 6x e il meno 10 l'ho ricopiato. A questo punto nella seconda equazione vado a ricopiare 7x mentre al posto della y sostituisco quello che ho appena trovato nella prima equazione. E quindi 7x lo ricopio, 2 apritonda al posto della y ho ricopiato meno 10 meno 6x. A questo punto la prima equazione la barro quindi non perdo tempo a ricopiarla e andiamo a fare i calcoli direttamente nella seconda. Moltiplicando 2 per meno 10 viene meno 20, 2 per meno 6x meno 12x e meno 5 lo ricopio. Dopodiché questa è un'equazione di primo grado quindi porto i termini noti al secondo membro cambiando di segno. E come sempre la prima equazione la barro. Quindi 7x meno 12x li ho ricopiati, meno 20 è diventato più 20. Ora sommo 7 meno 12x fa meno 5x, 20 meno 5 fa 15. Devo dividere sempre per il coefficiente che c'è davanti all'incognita quindi divido tutto per meno 5 al primo e al secondo membro. 15 diviso 5 fa 3 col segno meno. Quindi x è uguale a meno 3. A questo punto siccome sono arrivata alla soluzione la prima equazione la vado a recuperare e al posto di x qui devo andare a mettere meno 3. Quindi y è uguale a meno 10 lo ricopio e al posto di meno 6x ho scritto meno 6 per meno 3. Meno per meno più 6 per 3 è 18 quindi più 18 meno 10 fa 8. E questa è la soluzione del mio sistema. Come sempre passiamo ad un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho un sistema dove però prima ho bisogno di fare i calcoli e quindi andiamo a svolgere i calcoli nella prima equazione. Qui ho un prodotto di tre fattori quindi prima di tutto moltiplico 5 per x 5x, 5 per y meno 5y. E questo secondo fattore lo ricopio perché lo moltiplico nel secondo passaggio e tutto il resto lo ricopio. Seconda equazione, anche qui andiamo a svolgere i calcoli, 5 per y 5y, 5 per x meno 5x, mi raccomando la regola dei segni, uguale a 1. Continuiamo perché non abbiamo finito nella prima equazione quindi andiamo a moltiplicare 5x per 1 5x, 5x per x 5x alla seconda, 5x per y 5xy. Dopodiché stessa cosa per il secondo termine quindi meno 5y per 1 meno 5y, meno 5y per x meno 5xy, meno 5y per y alla seconda, meno 5y alla seconda. E tutto il resto lo ricopio. Ora, vi ricordo che siccome siamo in un sistema lineare di primo grado, tutti i termini di grado superiore al primo devono andarsene. E infatti noto che più 5xy meno 5xy sono opposti quindi se ne vanno. Allo stesso modo meno 5y alla seconda più 5y alla seconda sono opposti e quindi se ne vanno. Poi al primo membro trovo 5x alla seconda e al secondo membro uguale. E quindi anche questi se ne vanno perché se questo lo porto al primo membro viene meno 5x alla seconda e quindi è opposto e si semplifica. Bene, non si semplifica nient'altro. Vado a ricopiare la seconda. La prima quindi ricopiandola in bella coppia diventa così. A questo punto la seconda invece di ricopiarla vado già a esplicitarla. Vado a esplicitare la y nella seconda equazione per cui questo lo porto di qua. E diventa 5y l'ho ricopiato, 5x l'ho portato di qua più 1. Divido sempre per il coefficiente che c'è davanti alla y quindi divido tutto per 5. Quindi la seconda equazione se la ricopio meglio viene così. Ora che ho esplicitato la y la prima equazione la vado a ricopiare ma al posto della y scriverò tutto questo. Quindi 5x l'ho ricopiato e invece di meno 5y ho scritto meno 5 per tutta la mia y che c'è nella seconda equazione. A questo punto faccio i calcoli quindi la seconda equazione la barro mentre nella prima 5x lo ricopio. Qui noto che 5 e 5 si semplificano e quindi il meno davanti alla parentesi devo cambiare segno a tutto quello che c'è dentro la parentesi. Quindi viene meno 5x meno 1 meno 6 lo ricopio. Ora continuiamo con i calcoli quindi la seconda equazione la barro sempre e continuo con la prima. Questi termini sono opposti quindi noto che si semplificano. Quindi al primo membro mi rimane 0x. Porto meno 1 al secondo membro quindi viene più 1 e meno 6 lo ricopio. Come sempre la seconda la barro finché non ho finito di svolgere la prima. 0x lo ricopio. 1 meno 6 fa meno 5. Nelle equazioni di primo grado tutte le volte che la x ha coefficiente 0 mi devo chiedere E' vero? Cioè 0 è uguale a meno 5? Ovviamente no e quindi questa equazione è impossibile. Poiché questo è impossibile tutto il sistema diventa impossibile e quindi la soluzione si scrive così. E si legge non esiste x appartenente a r. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. Allora facile vero? Che ti dicevo? Bastano pochi minuti per prendere confidenza con la matematica. Spero che gli esercizi ti siano stati utili per allenarti e mettere subito alla prova quello che hai imparato nel mio video. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi episodi. Io sono Monia Tomassini e come sai il mio motto è Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo molto presto!